Mister Del Gallo, non è la prima volta che lo spoltore in questa stagione, nei momenti di difficoltà, riesce a trovare la gara perfetta, oggi addirittura contro l'Aquila, un 3-0, che dice come è andata la partita? Non so se è stata la gara perfetta, io credo che questi ragazzi la meritavano, l'avrebbero meritato anche in altre occasioni, forse in alcune occasioni siamo stati un po' sfortunati, probabilmente anche un po' di fortuna perché contro queste squadre devi fare la partita della vita e un po' di fortuna ci ha aiutato. La voglio dedicare a questi ragazzi, a quelli che non hanno creduto a noi in questo momento, non fa niente, noi lottiamo per salvarci, questo lo ribadisco, se continuiamo in questa strada faremo un grandissimo campionato. Un'ultima battuta su due giovani, due prodotti del Vivaio che oggi si sono veramente distinti, Chiacchiaretta e Planamente addirittura ha lanciato dal primo minuto il giovane attaccante Chiacchiaretta classe 2003 che l'ha ripagato con un gol. Sì, noi non diciamo che giochiamo con una banda di ragazzi, noi giochiamo con dei ragazzi bravi, fuori quota, tantissimi 2003-2004, le risposte le diamo sul campo. Oggi è stata una risposta fantastica dei grandi innanzitutto e di questi giovani che si sono messi a disposizione del mister e di tutti quanti.